Musica Ciao amici di Gioca con Giada, benvenuti in questo nuovo video! E oggi continueremo con la nostra rubrica Fai da te No, abbiamo iniziato con delle squishy LOL Surprise Vi ho insegnato il procedimento per farle Oggi invece ci dedicheremo a un altro tema simile Perché sono sempre i Fashion Dolls Ma sono le Nanana Surprise Per le due serie 1 E andremo a fare quindi queste fantastiche Nanana Surprise Con lo stesso procedimento con cui abbiamo fatto le LOL Vi farò vedere esattamente come fare e cosa vi serve per farlo Intanto serve sicuramente dello scotch trasparente Delle forbici Questo lo uso per appianare lo scotch in caso di bolle Vabbè, ognuno usa gli strumenti che ha E dopodiché del cotone per imbottirle Bene ragazzi, partiamo E direi che possiamo partire dalla serie 1 Con la nostra unicornina Si parte subito con lo scotch Musica 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 Ecco fatto Ecco la nostra Nanana Surprise Tutta interamente scocciata Ritagliamo Musica Musica I primi due pezzi sono fatti Eccole qua Le abbiamo finiti Le abbiamo ritagliate E ora non ci resta che unirle Le une con le altre Quindi con dei pezzi di scotch Uniremo tutti i bordi Tutti quanti Sia dell'una che dell'altra Che anche delle loro borsette animaletti Musica Quasi completamente sigillati Con una sola apertura Per poter infilare il cotone Come vedete Ci sono anche i loro animaletti Questo Il piccolo unicorno Prendiamo il nostro cotone E cominciamo a inserirlo Musica 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 E voilà Eccole qui Li abbiamo finite Ok vi piacciono? Guardate quanto sono belle Ecco qua Super morbide Squishose Ma pensate che io Mi sia fermata Solo a queste No 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 Infatti Ci sono anche loro Si lo so Lo so Lo so Sono un po' esagerata Però ho fatto anche ovviamente Tutti i loro animalettini Guardate quanto sono belli Ok Direi che ognuna ha il suo E voilà Che ne pensate? Qual è la vostra preferita? La mia Credo che sia Forse lei La gattina rosa Lei è della serie 2 Ok ragazzi Fatemi sapere se vi sono piaciute Se le rifarete anche voi E non vi dimenticate che Scrivendoci all'email Che trovate Sia in questo video Che su youtube Che su instagram Potete ricevere le immagini Che state vedendo Quindi il fronte e retro Di queste nana surprise Per poterle fare anche voi a casa Altrimenti le potete scaricare Da internet Che sono immagini Che comunque girano Sul web Detto questo Seguiteci anche su instagram Su tiktok Siamo sempre Gioca con Giada E un salutone E un bacione Ciao Ciao